Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna ci sono code tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, code a tratti tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, tra Valdichiana e Arezzo e tra Arezzo e Firenze Sud. In direzione Roma coda tra il bivio A1, A11 e Firenze Scandicci e tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Per lo sciopero dei casellanti code in uscita a Firenze Scandicci, Firenze Impruneta, Firenze Sud e Valdichiana. In A11 a Prato Est. In A12 code a tratti per un incidente risolto tra Versilia e Carrara in direzione Genova. Sul raccordo Siena-Bettolle a causa di un veicolo fermo a 3 km dal bivio di Serre di Rapolano in direzione Bettolle è stata chiusa una corsia. Nuoves in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! No. Buon viaggio! Grazie a tutti.